Buongiorno da Roma, siamo qui con Chiara Giovenzano che ha partecipato al programma Fulbright Best. Chiara, vuoi dirci qualcosa del programma quando sei andata negli Stati Uniti e cosa hai fatto una volta lì? Il Fulbright Best è un programma che manda dei giovani italiani negli Stati Uniti e li manda là ad imparare a far partire una company, una startup. Quindi quando sei là tu impari a diventare imprenditore. Io sono stata in Silicon Valley per sei mesi a cavallo del 2008 e del 2009. Quando sono stata là ho fatto dei corsi di imprenditoria e delle internship per provare a mettere in pratica quello che stavo imparando. Che impatto ha avuto il Fulbright Best sulla tua vita? Cosa hai fatto da quando sei tornata in Italia? Il Fulbright Best mi ha cambiato la vita. Quindi quando sono tornata ho iniziato a lavorare per far partire un'azienda e quando a febbraio ho fatto effettivamente partire l'azienda, l'ho fondata, ho mandato una mail a tutti quelli dello Steering Committee del Fulbright Best per ringraziarli perché è merito loro, è merito del Fulbright Best se io adesso sono il CEO di un'azienda. Quindi a me ha cambiato la vita, decisamente. Decisamente.